Benvenuti nel canale Meli Made in Sud. Come avrete letto dal titolo, oggi video sui preferiti del periodo. Come ad iniziare vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il link melimade.insud, vi lascio sempre qui il nick del profilo. Sono due prodotti che mi sono stati inviati dalle aziende, ma appunto sono dei preferiti, sono diventati dei preferiti e quindi io li metto in modo assolutamente genuino all'interno del video dei preferiti e poi vi mostrerò alla fine o durante il video un prodotto che mi è sempre stato inviato dall'azienda, ma purtroppo non rientra nel video dei preferiti. Lo metto perché sto provando questo prodotto da un po' di tempo, peraltro ve ne ho parlato anche su Instagram. Mi sembra giusto effettuare una recensione sincera e onesta a 360 gradi. Possiamo fare di meglio? I primi preferiti del mese sono dei gioielli. I più attenti avranno già individuato i gioielli, ebbene sì, orecchini con lana ed anello a marchio Anna Luisa. La linea essenziale, pulita ed aggiungo di buon gusto, uguale eleganza, che caratterizza, che caratterizzano tutti i gioielli che propone questo marchio. Io amo i gioielli essenziali, quindi il punto luce, gli orecchini molto piccoli, collanine molto sottili. Un gioiello pulito, un gioiello essenziale fa veramente la differenza, resta elegante e classico negli anni. Più il gioiello è pulito e più è un gioiello che si può tramandare e portare avanti negli anni. Braccio a tutte le età, dalla ragazza molto molto giovane fino alla donna molto matura e abbastanza adulta. Vi incoraggio a guardare il sito, sono sicura che al 100% troverete qualcosa che incontri o possa incontrare il vostro gusto. Ci sono anche dei pezzi che si possono combinare tra loro. Vi metto delle clip. Il pacco mi è arrivato all'incirca in una settimana, sì, più o meno una settimana. Il pacco arriva dagli Stati Uniti. Il sito, lo shop online, spedisce in tutto il mondo. Questo è l'anello, mi hanno fatto scegliere dei gioielli, dei pezzi e tra questi gioielli io ho scelto. Questo anello è bellissimo, è molto molto raffinato. Io ho scelto un anello regolabile, la misura è perfetta. La garanzia dei gioielli vale per due anni. Se si dovesse rompere un pezzo oppure una farfallina, una monachina, o magari riscontrate qualche problematica, insomma varie ed eventuali, potete tranquillamente sostituire il prodotto. Quindi Anna Luisa vi sostituirà il prodotto oppure se non volete il prodotto restituito nuovo o integro, potete richiedere tranquillamente il rimborso. Mi sono avvicinata per farvi vedere anche la collana, anch'essa bellissima. Vi metterò sempre delle clip così da farvi vedere il gioiello più da vicino. È bellissimo, anzi adesso sciolgo il fiocchetto così ve lo faccio vedere meglio. I gioielli vengono sottoposti a dei test di resistenza e anche dei test di umidità. Trovate gioielli avente diverse fasce di prezzo. Si parte, se non ricordo male, dai 39 euro. Vi lascio il mio codice sconto, che se non erro è MELIMADENSUD20, che vi permetterà di avere il 20% di sconto sui gioielli. Guardate la collana quanto è bella, è sottilissima. Guardate, è sottilissima. Io ho scelto questo abbinamento. Guardate questo anello com'è raffinato con la collanina, cioè su questi pezzi c'è scritto proprio il mio nome. Sul sito c'è scritto che il marchio è carbon neutral, quindi emissioni zero. Si impegna anche per i danni ambientali, per cercare di impattare meno per quanto riguarda l'ambiente. Sul sito viene specificato che il marchio è certificato anche climate neutral. Come potete notare gli orecchini sono meravigliosi, sono bellissimi. Davvero su questi gioielli c'è scritto il mio nome. Chi mi conosce anche da un bel po' di tempo sa che io utilizzo sempre gioielli puliti, dalle linee pulite ed essenziali. Qui c'è scritto proprio il mio nome. Peraltro sicuramente già vi avrò mostrato le clip, ma per quanto riguarda la collana ci sono tre gradazioni di lunghezza, quindi voi potete decidere se tenere la collana più stretta al collo o magari più scesa, quindi più verso il centro del del petto. Io personalmente la indosso e la sto indossando all'ultima gradazione perché mi piace molto giù. La trovo più elegante e anche ecco secondo me è una versione più classica, maggiormente classica, ma per i look più sportivi o più casual, maggiormente casual, la potete indossare anche a mo' di choker. Secondo me anche così è molto molto carina. Potete anche combinare altre collane. Amo fare una recensione a 360 gradi. Sono le dust bag, i sacchettini, chiamiamoli in italiana i sacchettini, perché praticamente una volta che voi avete tolto che so il cartellino, queste cose qui, potete riporre all'interno di queste sacchettine i vostri gioielli. Sono meravigliose anche quando dovete viaggiare. I bottoni sono calamitati. È tela, credo che sia tela. Mi piacciono anche le cuciture dei sacchettini. È un ricimelane, ma addirittura sì, mi piacciono anche le cuciture dei sacchettini. Questi gioielli sono perfetti sia se decidiamo di farci un regalo, di fare un autoregalo, ma sono bellissimi anche per regalare il gioiello o i gioielli a qualcuno. Essendo una linea di gioielli basica, pulita, elegante, accontentano tutti i gusti, dalla persona più estrosa alla persona dei gusti estremamente basici come i miei. Non so voi, ma a me piacciono tantissimo. Li trovo molto, molto fini e raffinati. Spero davvero che durino nel tempo, ma io faccio fede, o meglio, sì, faccio fede a quello che mi è stato detto, a quello che c'è scritto sul sito. Quindi spero che durino nel tempo, ma credo di sì, perché se l'azienda conferisce due anni di garanzia, significa che i gioielli sono effettivamente resistenti, perché non tutte le aziende vi danno una garanzia, o in generale danno una garanzia che si estende addirittura ai due anni. Su l'info box, mi raccomando, controllate perché ci sono tutti i dettagli, i riferimenti, e c'è anche il link specifico. Il link non è affiliato, quindi i gioielli mi sono stati inviati, ma sul vostro acquisto, nel momento in cui decidete o deciderete di effettuare un acquisto, io non prendo assolutamente percentuale. Questa è una cosa categorica che non accetto da nessun tipo di azienda, a meno che non stiamo parlando di una sponsorizzazione. Questo lo voglio precisare, lo scriverò anche in info box, ma lo voglio dire anche pubblicamente. Secondo barra secondi preferiti del periodo sono i cardigan, è una salvezza. Mi piacciono tantissimo sia in chiave sportiva, ma anche in chiave elegante. Mentre parlo vi metto sicuramente delle fotografie qui di fianco. I colori sono sempre neutri, mi piacciono i colori, ma per tutti i giorni, e anche quei colori che mi fanno sentire a mio agio, sono i colori neutri, che riesco a mixare tranquillamente con tutti i miei capi. che ho nell'armadio e soprattutto riesco a sfruttarli veramente. Vi faccio vedere questo cardigan, mi piace moltissimo, è abitato da una piccola ciappettina, sia nella parte superiore del collo, vedete, ha questo collo alla coreana, e poi ha una seconda ciappettina, ma a me piace moltissimo, portato o senza essere abbottonato, non abbottonato, senza la ciappettina, ma anche di stamattina, tra i rumuri, o malediemi, cosa sto facendo? Mamma mia, mi tengo il capo proprio in zallanuto. Comunque mi piace portato sia aperto, sdrammatizzato magari con una semplicissima maglietta a mezzo ai mani, che è bianca, una t-shirt e un jeans e una sneakers bianca, oppure mi piace al di sotto, è al di sotto, al di sopra di un vestitino. Ha queste finte tasche, è un modello Chanel per intenderci, sfrangiato sul fondo, ma su tutto il bordo del cardigan, e anche sulla manica. Non è lungo, ma arriva più o meno qui, a quest'altezza. L'altro cardigan, da avente, questi colori nude. Mi piace tantissimo la trama, vediamo se riesco a farvela vedere. Mi piace moltissimo questa trama, perché è proprio, come dico sempre, rustica della rusticanza. Vedete che sia quel cardigan che questo, ecco, se volessi metterlo al di sopra, ci sta benissimo, sarebbe benissimo. Ricordo con la cintura in vita, mi piace anche come termina, vedete? Ok. Ha la manica morbida, e questo mi piace sia indossato aperto, ma anche chiuso, a mo' di vestaglia, va? Una sorta di tipo vestaglia, con una semplicissima canotta, o t-shirt bianca, ma anche, che so, un color nocciola, quindi una gradazione differente, o più scuro, o più chiara, del cardigan, un bel jeans lavaggio classico, o un lavaggio chiaro, una bella sneakers sotto, oppure, che so, un tronchetto color cuoio, semi aperto, vi metto qui qualche foto, così mi spiego meglio, e siete a posto. Senza tanti fronzoli, perché a me i look pieni di fronzoli, fiocchi, fiocchetti, nastrini, nastretti, a me i look troppo pieni di cose, non mi piacciono, io, nel senso, non mi piacciono, io mi riferisco sempre a me, mi piace magari guardare gli altri, ma a me personalmente non piacciono, mi sento più a mio agio vestita così, proprio una questione di gusto, ma questo non significa, che non mi piacciono determinate cose, o non mi piace guardare dei look, differenti dal mio. Altro preferito del mese, è questo correttore di Essence, è il Skin Loving, 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 come se stai a scuola, come mi metti a fare una visita, ad un uomo, come il Sensitive Concealer, ve lo metto qui, non comedogeno, più aloe vera, non ha fragranza all'interno, non ha alcol, parabeni, siliconi e oli minerali, quindi appartiene alla linea natural, non lo so, made in Polonia, è un prodotto vegano, ed ha un pao di sei mesi. Adesso vi faccio vedere lo scovolino, non utilizzo la spugnetta direttamente sul viso, ma appena ho deterso le mani accuratamente, ne poggio un pochino sul dorso della mano, e poi con il pennellino, o semplicemente con le dita, lo vado ad applicare. ovviamente voi faccio come volete mettere, ognuno lo applica come vuole, sto dicendo semplicemente come lo applico io, non è che sto dicendo lo dovete applicare così, oggi sto specificando, perché a volte arrivano dei commenti che mi lasciano un pochino, io sto parlando di quello che faccio io, come lo utilizzo io, poi ogni persona ovviamente lo applica come vuole, ci mancherebbe altro. Mi piace tantissimo, lo indosso anche in questo momento, se non avete borse e occhiaie, è perfetto, è meraviglioso, perché ha un potere estremamente illuminante, e un'altra cosa che mi piace tantissimo di questo correttore, è che è estremamente elastico, ne basta veramente una goccia, e io mi trovo benissimo, infatti vi ho sempre detto che sul correttore non investo mai tanto, non avendo queste problematiche, cioè se devo spendere cifra x, preferisco comprare altro, tutto qui, non ne sento assolutamente l'esigenza, se siete molto giovani, o in generale non avete né borse né occhiaie, qualsiasi età, questo è un correttore meraviglioso, oppure potete anche utilizzare il vostro correttore abituale, magari se avete delle occhiaie molto marcate, oppure sono abbastanza scure, magari utilizzate un colore, un correttore scusate, colorato correttivo, e poi al di sopra potete andare a mettere questo, perché secondo me l'effetto è comunque bello, perché è un correttore estremamente elastico, come vi ho detto prima, meraviglioso, io me ne sono letteralmente innamorata, non l'ho comprato da tanto tempo, è da poco che lo sto utilizzando, ma io già ne sono follemente innamorata, peraltro l'ho testato, quando mi sono sottoposta a fatiche molto faticose, e nonostante io abbia sudato, si è comportato benissimo, questa è una mia esperienza, in base a come è la mia pelle, come reagisce la mia pelle, prodotto eccezionale, strastra promosso, ed è un prodotto low cost, perché stiamo parlando di essence, ma la gelita le iniziano a vedere essence, l'altro preferito del mese, anche se non lo sto utilizzando da un mese, è questa crema specifica per collo e decolletè, vi metto qui le immagini, il video, questo mi è stato inviato dall'azienda, che mi aveva inviato anche il siero con tornocchi, e la crema, IMIM, credo che si pronunci così, è un bel vasettone da 50 ml, ed è una crema specifica per collo e decolletè, allora, vi metto sempre liste ingredienti, mentre parlo, questa crema mi è piaciuta moltissimo, nonostante sia poco, nonostante io abbia utilizzato questo prodotto, allora, mi è arrivato, una settimana fa, più o meno, o sabato, o venerdì o sabato mi è arrivato, io lo sto mettendo mattina e sera, mattina e sera, mattina e sera, perché è estremamente, quando dico estremamente, estremamente idratante, io lo applico da questa zona fino a qui, quindi nella parte superiore proprio del petto, pelle pulita mi raccomando, e poi vado ad eseguire sia dei movimenti circolari, ma anche dei movimenti dall'alto verso il basso, proprio questi movimenti, ed è una crema estremamente idratante, ma proprio estremamente idratante, infatti non lo so se sarà adatta, quando arriverà il caldo, proprio forte forte forte, sul potere idratante, non posso dire veramente niente, quando vi ho parlato del kit, quindi sia crema contorno occhi, io come sempre sono stata onesta, dicendo che la crema contorno occhi mi piace, ma non noto una differenza, ecco, se utilizzo questo prodotto o un altro prodotto, invece il serum mi è piaciuto moltissimo, idem per la crema, quindi se non mi fosse piaciuta, avrei detto anche la crema non mi è piaciuta, e avrei detto anche il perché, le recensioni a questo servono, quindi la crema mi è piaciuta tantissimo, non vi nascondo che sono due sere, sì, più o meno sono due sere, che ne sto applicando un pochino anche sul giro cuticole, vi faccio vedere, melania, gli usi alternativi, guardate come sono ben idratate, detesto avere le pellicine attorno alle unghie, indurite spesse, se non è idratata bene la pelle della mano, e la pelle attorno all'unghia, cioè a me esteticamente non mi piace proprio, ma mi sento proprio a mio agio, quindi preferisco non avere smalto, non avere niente, ma avere la pelle bella idratata, così mi è venuto uschi di pizza, ha detto no, io voglio brua, perché l'ho vista estremamente idratante, ha detto fammi avere vicine in mano come fa, meravigliosa, me ne sono innamorata, quindi grazie all'azienda per averla, avermela inviata, infatti questa la porterò dritta in vacanza, poi un altro preferito del mese è sempre Essence, quindi a Gerit questo sì me l'ha mandato l'azienda, io ho sempre paura di, come dire, di non essere esaustiva, di non essere estremamente precisa, perché ecco, senza cadere nell'esagerazione, però ecco, la correttezza per me è la prima cosa, altro preferito del mese è questa base, in realtà è una base smalto, ma funge anche da protettivo per le unghie, ed è questa, è sempre a marchio Essence, Essence per, ecco, per quanto riguarda i prodotti per le mani, secondo me è veramente meravigliosa, ha delle vere e proprie chicche, è un flacone da 8 ml, ed è un prodotto vegano, ed ha un pao di 24 mesi, la specifica in italiano dice, smalto, unghie, base coat, previene spaccature e rotture, ora non ho fatto caso sinceramente, se prevenga o non prevenga, previene o non previene spaccature, tutte queste cose qui, vi posso dire semplicemente che si asciuga immediatamente, e se applicata magari una seconda passata, dà un meraviglioso effetto di unghia sana e curata, quando non ho il tempo di fare semi permanente, o di applicare lo smalto classico, ecco questa base mi piace moltissimo, peraltro dura anche un bel po' di tempo, vedete? O non lo è detta? Bellissimo, infatti l'ho applicato l'altro giorno, ed è ancora perfetto, quindi è estremamente lucido, mi piace tantissimo, sia come base, ma mi piace tantissimo, semplice, in purezza, io lo trovo estremamente elegante e raffinato, però mi raccomando, mettete sempre la crema idratante, perché altrimenti... Ultimo prodotto, ed è il prodotto a cui facevo riferimento all'inizio del video, purtroppo non rientra nei miei prodotti preferiti, adesso vi spiego, cercherò di essere estremamente breve, perché già il video è durato tantissimo, allora, non so come si pronuncia il nome, c'è scritto Sun May, Sun May? Non lo so, eccolo qui, una piastra cordless, quindi è senza filo, ed è due in uno, questo significa che potete eseguire sia dei boccoli, ma anche potete lisciare i vostri capelli, a tre livelli di temperatura, il display LCD, e si ricarica semplicemente con un classico cavetto USB, come starete vedendo sicuramente dal video, trovate... cioè, a me dispiace, mi dispiace perché comunque io vorrei promuovere qualsiasi cosa, però... l'onestà. All'interno avete il libretto di istruzione, si vede benissimo, peraltro, si vede molto bene, ah, dimenticavo, ora che lo sto aprendo perché me l'hai riscordata, purtroppo non c'è la spiegazione in italiano, e questo secondo me è una cosa da modificare, quindi azienda, se tu mi stai guardando, sarebbe opportuno mettere le indicazioni anche in italiano, perché magari io lo capisco l'inglese, ci sono diciamo vari metodi anche per tradurre, voi se aprite Google Traduttore, selezionate la lingua che volete tradurre, e poi c'è una piccola icona, ve la faccio vedere qui, voi la premete e automaticamente vi viene tradotto il testo, ma ci sono delle persone che con la tecnologia, uno sta levante e uno sta ponente, quindi ha difficoltà, o magari sono persone abbastanza adulte, quindi non sono pratiche di internet, Google, traduttore, tutte queste cose qui, quindi essendo il prodotto dedicato anche al mercato europeo, sarebbe cosa saggio e giusta mettere anche la lingua italiana, questo è il cavetto, come potete notare è un cavetto USB, che si può caricare tranquillamente, anche quando siete magari in viaggio, un becco di cicogna, tre tappini per non bruciarvi le dita, guardate, il pettine, il pettine potete anche sezionare i capelli e qui potete pettinare la ciocca, prima di procedere con il passaggio della piastra, riesce addirittura il sacchettino in vellutino per poterla trasportare, in questo, vedete, in questo vellutino, questa è la piastra, anche esteticamente mi piace moltissimo, è leggerissima, guardate, il display è molto bello, il tasto per accenderla, il tasto per aprirla, e si apre, basta piggiare e si accende e poi piggiando nuovamente andate a selezionare la, l'ho spenta, il bello della diretta, andate a selezionare la gradazione, il grado di calore, io la metto, la imposta alla massima potenza perché ho tanti capelli e sono capelli spessi, mi sono dimenticata di farvi vedere le piastre, vedete che sono piccole, cioè piccole nel senso, non è tanto il diametro, ok, ma, quindi lo spessore, ma è l'altezza, l'altezza, vabbè, di grimano, la lunghezza delle piastre, vedete, nel momento in cui arriva a temperatura, si smette di lampeggiare, adesso sta lampeggiando, quindi magari mentre parlo la metto così, perché è con la mia recensione negativa, cosa dobbiamo rivedere di questa piastra, è una piastra secondo me adatta a chi ha capelli sottili, non tantissimi i capelli, e soprattutto per chi ha un taglio medio, abbastanza medio o corto, per chi ha i capelli lunghi, spessi, e molto folti, questa piastra non va bene, potete notare, è arrivata a temperatura, quindi non sta più lampeggiando, è diventata verde, ciò significa che la potete tranquillamente utilizzare, però la voglio un attimo spegnere, perché altrimenti faccio consumare la batteria, ha difficoltà nel creare il boccolo, e ha difficoltà nel lisciare bene, ora non pretendo che faccio i capelli a spaghetto, ma non liscia neppure bene o in modo modesto i capelli, se volete ottenere una bella onda, cosa succede? che avendo i capelli molto spessi, molto lunghi, non solo avete difficoltà nel prelevare tutti i capelli, tutta la lunghezza del capello, ma praticamente dovete stare tre ore, con la piastra a insistere, questo che significa? Significa sostanzialmente due cose, primo che esaurirete immediatamente la carica della piastra, si scaricherà subito, perché appunto essendo senza fili, ha un tempo massimo per restare accesa e per essere utilizzata, seconda cosa andate a rovinare il capello, perché più la piastra, è vero che comunque le piastre in generale, fanno sempre danno, ma più la tenete a contatto con i capelli, sui capelli e maggiore il danno sarà. Peccato, 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 perché l'idea di una piastra senza filo è molto molto, come dire, pratica, si può portare in viaggio, può essere veramente utile, infatti ho pensato di portarla in vacanza e di utilizzarla su persone della mia famiglia che hanno i capelli molto corti. Voglio vedere, ecco, in quel caso come si comporta, perché ecco, la mia è un'idea, secondo me, su chi ha i capelli corti può andare bene, potrebbe andare bene, però non avendola provata, è una mia supposizione. Sui miei capelli, purtroppo, no. Sostanzialmente questo è il succo. Ora io la riaccendo, vi faccio vedere, direttamente, diciamo, in live, come si comporta. L'altro giorno, quando l'ho utilizzata, vi ho fatto, diciamo, alcune stories su Instagram, non ero arrivata neppure a metà testa e ero arrivata all'ultima tacca. Praticamente è inutilizzabile. Ora io vado ad utilizzare. Una piccola ciocca. Ok. Ecco, è arrivata. Adesso vi faccio vedere. Allora, vi faccio vedere il movimento che effettuo con la piastra che utilizzo da anni e che adoro follemente. E poi vi faccio vedere il risultato. Ok? Quindi, se utilizzassi la piastra che utilizzo abitualmente, farei questo movimento con queste tempistiche. Per avere un risultato decente, devo fare così. Guardate io per quanto tempo devo tenere la piastra. Guardate. Il risultato è anche gradevole. Può essere anche... Guardate il correttore come illuminante. Vedete? Però, quanto tempo devo stare sulla ciocca? Le ciocca devono essere piccoline. Devo stare un sacco di tempo. E poi tenete presente che qui i capelli sono un pochino più corti. Perché io un po' di tempo ho fatto il carré. È un po' più lungo davanti e più corto dietro. Adesso sono cresciuti tantissimo i capelli. Quanto tempo devo stare? Cioè, quanto tempo la piastra deve toccare il capello? Il capello si danneggia. Ma non tanto, di più. E altra cosa, la carica si scarica subito. Cioè, guardate. Adesso era carica. Guardate già, una tacca è andata via. Mentre io sto parlando. Ora proviamo a stirarla. Quindi a riportare il capello liscio. Forse su un capello corto, con un bel taglio corto, senza prendere delle ciocche enormi, lisciando, ecco, potrebbe anche andare. Però vedete che la parte finale fa fatica. Ci devo passare. Così potrebbe anche andare. Quindi ci aggiorniamo, ci aggiorneremo. Magari farò proprio un test. Vediamo se riesco a sfruttare la mia mamma. Perché lei le ha corti i capelli. E vediamo come si comporta. Perché appunto mi dispiace bocciarla completamente. Perché comunque il concept senza filo. Poi ci sono tutti questi accessori all'interno. È un peccato. Mi dispiace tantissimo. Però se io riscontro queste problematiche, io lo devo dire. Ringrazio comunque l'azienda per avermi inviato la piastra. E spero soprattutto che attraverso la mia recensione onesta e leale. Si possano apportare dei cambiamenti. Formare, formulare una piastra maggiormente performante. E magari, spero un domani, di poterla riprovare e dire. Ok, non dico perfetta, però fa il suo egregio lavoro. Perché ve l'ho fatto vedere in video il risultato. Spero di avervi tenuto soprattutto compagnia. Vi lascio il mio contatto Instagram. Mi trovate appunto su Instagram con il link melimade.insud. Vi ricordo che trovate giù in infobox i codici sconto ancora attivi. E mi raccomando, andate a sbirciare sul sito di Ana Luisa. Perché come potete vedere, questi gioielli sono veramente bellissimi. Sono estremamente, estremamente raffinati ed eleganti. Noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre, un bacio, un abbraccio in tarallino dalla vostra melimade.insud.